cari fratelli e sorelle nerazzurro e sono sempre doggigite aspettiamo a parlare aspettiamo a parlare ma per ora la settimana è andata bene per ora aspettiamo a parlare perché c'è ancora oggi per concludere bene la settimana no vittoria con la lazio vittoria col verona la settimana prima era andata molto bene anche la settimana prima quindi quindi prima di fare le nostre preghiera e richieste al signore ringraziamo il signore perché sembra che ci stia ascoltando quindi ringraziamo il signore nuovamente perché sembra che ci stia ascoltando ringraziamo il signore nuovamente perché sembra che ci stia ascoltando tutte le nostre richieste e desideri per ora sono stati esorditi gli ultimi quindi va sempre ringraziato il signore nel bene o nel male che succeda o che non succeda che la richiesta venga accolta o non venga accolta una volta che c'è la risposta definitiva dalle nostre preghiere si ringrazia lo stesso nel bene e nel male perché giù è cosa buona e giusta che è vero che lui ci diceva chiedete vi sarà dato però non bisogna esagerare perché non è che è il giusto e noi chiediamo solo l'aiutino alla nostra inter la benedizione dal cielo per la nostra inter e quindi cari fratelli e sorelle nerazzurre come sempre iniziamo a vedere perché oggi è una partita fondamentale andiamo a sfidare il vate di setubal andiamo a sfidare colui che ci portò sul tetto del mondo anzi non ci portò lui sul tetto del mondo ci portò quell'altro sul tetto del mondo lui ci portò solo a fare il triplete sul tetto del mondo ci ha portato quell'altro ma quando ormai il più era fatto perché ormai sul tetto del mondo le squadre europee ci vanno sempre penso che l'ultima volta che è successo che una squadra non europea non ha vinto è stato quando ha perso il milano una finale di coppa intercontinentale ma devi tornare indietro di 30 anni perché se non ero il milano ne ha vinte cinque di coppa intercontinentale e due finali le ha perse se non ricordo male però bisogna tornare proprio indietro 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 se no sono sempre le nostre squadre europee a vincere la super la coppa intercontinentale anche se adesso ho voluto aggiungere le squadre africane quelle asiatiche che hanno vinto la loro coppa nel loro champions league chiamiamola così ma alla fine giusto con noi è successo che abbiamo sfidato la squadra africana perché riuscì a battere la squadra brasiliana che vi fa capire che livello è il campionato brasiliano ma va bene comunque ragazzoli andiamo a vedere intanto la formazione che andrà a giocare a roma contro giallorossi di moriglio una roma spuntata però è sempre da tenere in considerazione starci attenti perché c'è lui panchina c'è il vate che ne sa una più del diavolo e quindi ci vuole la benedizione del signore caro burinio ci spiace ma ti dobbiamo battere ma veniamo alla probabile formazione un'ana in porta qualcuno era preoccupato ci potesse essere da dove c'è un'ana darmiana a cerbi bastoni in difesa sperando che a cerbi non sbagli le scarpe poi faremo una richiesta sugli esterni giocheranno danfis e di marco anche perché è d'obbligo ed uopo visto che ahimè gosen si è fatto male ma dovrebbe riuscire a rientrare per la settimana prossima per la partita di champions non ce la fa con il milan ma dovrebbe tornare disponibile per la prossima settimana che è importante per far rifiatare un attimino il buon federico che se no mi arriva al 65esimo che è morto quindi danfis e di marco sulle fasce centrocampo barella brosovic cialanoglu quindi un po di riposo per mkhitaryan ci vuole perché a 30 e passa anni un po di riposo ci vuole in attacco e dovrò fare perché giocano lucaco e correa e qua mi fermo qua mi fermo preferisco fermarmi e dire la preghierina di padre pedro alias ma spencer imporgi l'altra guancia e dirla dentro di me un attimino mi fermo un attimo perché quando ho visto che gioca ancora lui l'altro mi sta bene ma lui scusate un attimo bene cari fratelli e sorelle nera azzurra iniziamo la preghiera al signore dopo averlo ringraziato per le belle perché adesso andiamo a fare le richieste cominciamo con onana signore va bene così però la bella benedizioncina ci vuole sempre perché per onana la benedizioncina ci vuole sempre anche domenica ha fatto il sanzi sabato domenica era le 12 e 30 ha fatto il suo ha giocato bene ha fatto una bella partita purtroppo sul gol non poteva farci nulla era un calcio di rigore in movimento però conservacelo così che svolazza da un palo all'altro come se fosse super bene ecco eh signore mi raccomando vediamo la difesa d'armiana cervi bastoni signore d'armian conserva ci vuole per lui la benedizione del gerovitale perché c'è una certa età però sta correndo sempre e comunque però la benedizione particolare per lui col gerovitale eccetera per mantenerlo bello in forma ci vuole eh signore a cervi signore benedicini le scarpe perché non è possibile che non stia in piedi mettigli delle scarpe non dico alate perché se si mette a volare per il campo poi dicono eh c'è qualcosa che non va però delle scarpettine che gli permettono di stare in piedi de bene tranquillo correre con postura giusta perché domenica scorsa era sempre per terra cadeva da solo e infatti abbiamo preso anche gol per colpa sua vediamo a bastoni signore ecco bastoni va bene però che non prenda sempre il solito giallo perché tutte le domeniche prende un giallo e non va bene già ci abbiamo barella è possibile che tutti i giocatori nostri che in San Collabino devono prendere un giallo a partita benedizione per farlo segnare magari un crossettino un gollettino sarebbe male della porta giusta signore non della nostra che l'ultima volta che ti ho chiesto di far segnare un difensore l'hai fatto segnare nella nostra porta è vero che è passato più di un anno però eh signore quindi benedizione per il giovane ecco e adesso mi fermo un attimo signore e poi proseguiremo con le richieste di benedizioni bene 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 proseguiamo con le richieste di benedizione al signore con Danfris e Di Marco allora signore Di Marco conservacelo così com'è perché va bene quindi la benedizione del mantenimento sei e mezzo sette con assist ecco che va benissimo mentre invece signore Danfris lo so che ti chiedo anche lì la benedizione quasi Lazzaro alzati e cammina però sono le ultime partite che farà con noi perché probabilmente partirà a fine anno o andrà in qualche altra squadra però signore un assist un gol qualcosa perché veramente quando fai passaggio o li fa troppo corti o li fa troppo lunghi quando deve tirare passa quando deve passare tira dove fa una giusta è come cimabue signore e qua signore mi fermo pensaci tu lascio a te la decisione su che benedizione gli puoi dare a Danfris perché io ormai non so più quale chiederti ecco signore e qua mi fermo un attimino proseguiamo 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 a fare le nostre richieste al signore con il centrocampo Barella Brozovic Alanoglu ecco signore come dicevo prima tutti i giocatori che iniziano con una big della nostra squadra prendono sempre il giallo una volta tanto anziché un giallo se gli facessi fare un gol a ciascuno non sarebbe male signore una volta tanto non dico sempre ci mancherebbe troppa grazia Sant'Antonio però almeno un golletto anziché il giallo come sempre perché entra Barella a dieci minuti si fa morire gioca Brozovic si fa morire gioca Bastoni si fa morire quindi signore se anziché i gialli facessero qualche golletto non mi dispiacerebbe non dico tutti almeno uno uno delle tre B fai tu scegli tu quello che ti piassa più simpatico un gollettino ecco niente di che comunque per Barella Brozovic e Ciananoglu una bella benedizione bella precisa per il mantenimento del rendimento perché Ciananoglu mi ha fatto un gol l'altro giorno mercoledì che veramente siamo rimasti tutti a bocca aperta quindi se me lo mantieni così che tira da 30 metri e segna va benissimo signore Brozovic e Barella la benedizione del tanta qualità e poca giannità ecco se mi permetti il termine poche ammunizioni ecco zero ammunizioni tanta qualità e zero ammunizioni la benedizione del tanta qualità e zero ammunizioni per Barella e Brozovic mentre invece a Ciananoglu mantieni il piedino bello caldo bello pronto che così un gol a partita va benissimo che in questo momento ci serve vediamo signore alle dolenti note Lukaku e Correa Lukaku sta migliorando signore quindi una benedizione del miglioramento del continuo miglioramento per tornare ad essere il giocatore che abbiamo ammirato con Conte l'anno dello scudetto questo ti sto chiedendo un maggio e un giugno in cui Lukaku gioca come quando giocava nell'Inter di Conte l'anno dello scudetto solo questi 40 giorni qua signore anzi sono anche bene è un mese 32 33 giorni 34 quello che è non ti chiedo nient'altro solo poi dopo tanto tornerà il Chelsea e quindi ciao Lukaku mentre invece signore Correa vale lo stesso discorso che facevo per Danfris vedi tu quale benedizione gli puoi dare perché io ormai ho perso le parole come diceva il buon Ligabue tra l'altro il buon Ligabue diceva anche hai un momento Dio quindi ti ringrazio che perdi questo quarto d'ora venti minuti con me a sentire le mie richieste per la mia Inter bene detto questo naturalmente signore una bella benedizione generale a tutto il resto della squadra per mantenere la bella pimpante allegra e volitiva e adesso signore c'è la richiesta particolare quindi mi fermo un attimino mi preparo spiritualmente a farti la richiesta una quella importante bene cari fratelli e sorelle Nerazzurra è arrivato il momento di fare la richiesta quella importante come l'abbiamo fatta per la finale anzi per la semifinale di Coppa Italia la facciamo anche per la semifinale di Champions la richiesta al signore di una benedizione speciale signore una benedizione che arrivi precisa di quelle proprio a rilascio lento che però alle 21 anzi alle 20 e 55 di mercoledì arrivi questa bella benedizione questa acqua benedetta che è già arrivata con la Juventus che arrivi anche mercoledì sera alle 20 e 55 e in ondi letteralmente di benedizioni varie di acqua benedetta eccetera i nostri giocatori che giocano lo sai benissimo contro i cugini quelli del piano di sotto eh signore visto che ci hanno eliminato due volte in champions sarebbe ora per par condicio che passassimo noi non è che possono sempre come si dice non può piovere per sempre quindi l'acqua benedetta deve servire per non far piovere per sempre ecco ci siamo capiti signore l'hai fatto per la Juve fallo anche per la sfida contro il Milan ci conto signore poi lascio fare a te ci vuole proprio la benedizione che arriva proprio a rilascio lento e arriva al top alle 20 e 55 e finisce a mezzanotte anche 11 e mezza signore va bene anche alle 11 tanto è la partita di andata quindi per le 23 può andar bene facciamo 23 e 30 per stare più tranquilli detto questo dopo aver fatto anche la richiesta per la gara di mercoledì sera al signore ringraziamo sentitamente il signore nuovamente per le belle giornate che abbiamo avuto queste ultime di campionato e di coppa e prima di darvi la mia umile benedizione vi ricordo sempre il metodo padre Pedro imporgi l'altra guancia per evitare non solo nell'ambito calcistico ma in generale di farvi scappare la parolina di troppo che non va bene quindi evitare di dire la parolina che non va bene perché vi arrabbiate perché vedete qualche cosa che non vi piace perché qualcuno in macchina va piano perché quello dietro vi suona il semaforo e magari perché il capo vi stressa e vorreste mandarlo a Fufulla invece non si deve c'è il metodo no? quando state fate il metodo padre Pedro che è il seguente San Camillo San Camillo fammi stare un po' tranquillo San Tommaso San Tommaso or mi viene la mosca al naso San Clemente San Clemente fa che sia molto paziente perché se perdo la pazienza devo fare penitenza bene cari fratelli e sorelle dell'Azzur io vi mando la mia benedizione e ci vediamo la settimana prossima che non so quando giocherà l'Inter adesso ci guardo un attimino così ve lo faccio sapere perché così vi dico già subito se ci vediamo settimana prossima o meno perché se l'Inter dovesse giocare ancora venerdì allora la prossima giornata si gioca di sabato c'è Inter Sassuolo c'è Inter Sassuolo e di sabato quindi ci rivedremo venerdì prossimo con la preghierina del Signore del Gigione al Signore non la preghierina del Signore la preghierina del Gigione al Signore quindi posso finalmente mandarvi la mia benedizione e ci vediamo settimana prossima Amen Ciao a tutti Grazie.